Solana, C-R-O e anche altre criptovalute che sono forti ma hanno accusato il colpo del crash di FTX si riprenderanno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video un video che ritorna ad essere un video di analisi delle criptovalute le più colpite dalla crisi di FTX, dal crash di FTX sono Solana e Crypto.com, anche lei colpitissima però ho voluto aggiungere in questo video analisi ragazzi anche altre due criptovalute che sono invece molto forti per capire anche la contrapposizione tra le cripto forti e quelle invece deboli in questa fase e come si giocano i rapporti di FTX sono Binance Coin, quindi BNB e anche Matic ho preparato già i grafici, sarà un video focused solo sull'analisi e per cercare di rispondere a una domanda che credo un po' frulli in testa a tantissimi di voi in questo momento cioè Crypto.com o Solana, soprattutto Solana riusciranno a riprendere un trend rialzista di medio-lungo periodo tra poco conviene fare un buy dei dip su questi token dopo il crash, soprattutto su Solana che comunque ha subito solamente un crash dovuto alla questione di FTX come sono messe le strutture di analisi tecnica sui grafici questo è quello che faremo in questo video ma prima di andare a vedere i grafici io vi devo intanto ringraziare perché vi siete iscritti in tantissimi ho raggiunto il massimo numero di iscritti a un mio webinar ragazzi della storia, cioè del mio canale YouTube e quindi vi ringrazio perché in un contesto del genere è veramente tantissimo il 22 di novembre faremo un webinar dedicato solo e esclusivamente al trading intraday dei mercati delle criptovalute e sarà un webinar gratuito ragazzi per chi di voi si andrà a registrare vi lascio il link in descrizione della pagina dove potete trovare tutte le informazioni il 22 novembre alle ore 18 ci sarà questo webinar se non potete partecipare in live non riuscirete a fare le domande che sono molto importanti ma comunque alle persone registrate verrà inoltrato il link con il video registrato per poterlo rivedere successivamente è un webinar che poi darà anche gli annunci per il back friday ragazzi quindi per chi di voi interessa la formazione, i corsi e tutti i servizi che sono presenti nel sito trading onno non mancate perché ci saranno veramente tante sorprese e mi sono anche superato questa non mi nascondo essere un'analisi con la quale ho vinto il contesto di trading ahimè su FTX ma è un po' complessa questa strategia ragazzi ho cercato di renderla più semplice possibile la strategia intera la sto registrando e sarà messa nel corso basic con ben 3 o 4 lezioni perché è troppo complessa da spiegare in una singola lezione però nel webinar vi darò un'infarinatura quindi non mancate ragazzi e intanto grazie a tutti voi per essere registrati così numerosi in un contesto di bear market e di sfracellamento totale soprattutto di una cosa che non la dico qui che cosa ci hanno sfracellato perché mi bannano il video va bene detto questo siamo sulla prima cripto che vediamo oggi Binance Coin BNB ragazzi grafico a time frame daily andiamo a vedere quello che ha fatto BNB ragazzi BNB è sicuramente una delle criptovalute che negli ultimi periodi è quella che è stata più forte di tutti perché se la vediamo anche per esempio nei confronti di BTC vi faccio vedere la differenza abnorme di trend guardate come è più forte Binance rispetto a Bitcoin dalla struttura poi del novembre 2022 questa è scusate 2021 questa è una zona dove Bitcoin era sui massimi storici poi è vero che c'è stata una leggera fase di ribasto verso Bitcoin poi c'è stato il breakout di questi livelli di resistenza è un trend che praticamente ha fatto un po' in solitaria rispetto anche alle altre criptovalute quindi BNB sicuramente è una delle criptoforti di questa fase però ragazzi andiamo a vedere l'analisi ciclica che cosa ci dice e soprattutto se questa cripto potrà continuare perché è una cosa che su Bitcoin che ha perso tantissimo dobbiamo dirlo in questo bear market è un bear market molto difficile per il re delle criptovalute si aspettava un bear market più leggero in realtà è stato uno dei peggiori probabilmente per tanti motivi con l'ultimo crash sicuramente sarà annoverato come uno dei peggiori bear market di Bitcoin però andiamo a guardare invece la struttura ciclica di BNB avendo comunque pochi dati statistici su Binance Coin non è molto semplice andare a strutturare la ciclica degli annuali in questo tipo di analisi quello che ci conviene fare è focalizzare la nostra attenzione su quelli che sono i cicli annuali cioè i cicli annuali pilotano teoricamente quello che è un andamento di un asset finanziario della durata di un anno quindi se deve iniziare un trend di medio periodo intendo 3-4 mesi quindi nelle cripto questo possiamo definirlo medio periodo non breve quel trend si andrà a sviluppare proprio durante un nuovo ciclo annuale quindi quello che è l'analisi dei cicli annuali ci interessa appunto per capire se siamo all'inizio di un nuovo ciclo annuale e la cripto voluta in questione potrà fare un nuovo trend al rialzo allora intanto vi faccio vedere i cicli annuali disegnati su BNB che per fortuna essendoci stata da tempo in memore dal 2017 in realtà non memore scherzi a parte ha anche il minimo del bear market 2018 che era finito appunto nel dicembre del 2018 allora da qui vedete il nuovo ciclo annuale poi iniziato da quel bear market poi tutta la bolla speculativa che abbiamo assistito con la questione della pandemia e poi i cicli intermedi questo è il ciclo annuale del 2021-22 e questo è quello nuovo su BNB la questione del ciclo annuale è abbastanza evidente che il ciclo annuale si sia chiuso a giugno il motivo per il quale ragazzi abbiamo tantissimi dubbi sulla questione che Bitcoin abbia fatto un minimo attuale che possa essere inerente all'effettivo ciclo annuale e se questi dubbi che verranno diramati tra pochissimo praticamente noi li elimineremo definitivamente se il ciclo annuale di Bitcoin è iniziato come BNB, come Ethereum quasi sicuramente deve passare questo fine settimana quindi mancano tre giorni insomma comunque se è iniziato a giugno è molto complesso perché è ribassista è la prima volta che un ciclo di bear market di Bitcoin continua con un secondo annuale ribassista allora in questo caso però abbiamo una risposta molto chiara anche alla struttura di BNB perché BNB ragazzi in questo momento ha iniziato un nuovo ciclo annuale probabilmente in questa zona un nuovo ciclo annuale che stancisce che lo scorso era stato un ciclo annuale di natura neutrale con un minimo leggermente inferiore al precedente un massimo a campana quindi un classico ciclo da barra di congestione di in questo caso probabilmente potrebbe essere distribuzione o riaccumulazione avendo iniziato un nuovo ciclo annuale in questa zona che è il giugno del 2022 quindi 22 ragazzi allora vi metto il giorno preciso e mi tiro su la lineetta eccolo qua il giorno 17 di giugno 2022 avendolo iniziato ha strutturato un primo trend vedete al rialzo quindi questo trend è sostanzialmente confermato dal fatto che BNB essendo anche abbastanza forte ha creato proprio un trend rialzista vedete all'inizio del ciclo dell'annuale concettualmente però il problema dov'è? che l'annuale in questione è già in essere da tanto tempo quindi potrebbe aver già delineato tutta la sua fase rialzista ed è questo il vero dubbio ora come si fa a ragionare da questo punto di vista su criptovalute di questo tipo per andare a prendere poi delle decisioni di natura operativa bisogna andare a considerare il fatto se questa cripto riuscirà a riprendere il trend primario in questo caso che è quello del ciclo annuale oppure inizierà la sua fase di chiusura del ciclo annuale vi faccio capire la questione se il ciclo annuale dovesse essere esattamente così come l'ho disegnato a 400 giorni più o meno come il precedente che era 3,97 andrebbe a chiudersi a luglio del 2023 se fa una cosa del genere allora a questo punto qui ci sarebbe a metà lo spartiacque fra la fase up intendiamola così e la fase down ovviamente non è precisamente così ragazzi ve la sto semplificando in maniera abnorme va bene però insomma concettualmente ci dice che la struttura di questa criptovaluta deve andare a riprendere un trend long insomma un trend rialzista e soprattutto non deve iniziare a sviluppare una inversione di trend sul grafico cioè già questo livello di prezzo 250 dollari su BNB diventa un livello importantissimo da mantenere se BNB vuole mantenere un trend al rialzo considerate che qui ha fatto un ciclo da 90 giorni che è definibile un ciclo trimestrale se va a chiudere un classico ciclo semestrale quindi a 200 giorni circa vedete da questo punto dovrebbe andare a fare una struttura di ribasso e poi tentare la ripresa questa zona qui è importantissima cioè non deve scendere tantissimo va bene se scende intorno a questa cifra a 250 ma se va troppo giù e inverte il trend un'eventuale fase di ripresa non ce la farà e quindi a quel punto potremmo assistere a un'inversione anche su BNB solo il superamento di questi massimi a 363 sancisce la ripresa di un trend però su una cripto forte così insomma verso la fine di questo di questa struttura che dovrebbe essere intorno a gennaio quindi l'ultimo ciclo mensile quello che potrebbe farci fare un mini rally di natale giusto per intenderci che potrebbe fare una cosa del genere da questo momento in poi potrebbe perché no potremmo attendere un'eventuale inversione di trend per andare a long ovviamente se mantiene questo livello perché se poi sprofonda qui non si va più da nessuna parte quindi quello è già invertito quindi BNB forte sì ma attenzione a queste cose qui ragazzi perché vanno prese in considerazione ovviamente se anche il mercato di Bitcoin inizia a riprenderci eccetera probabilmente ne beneficerà anche questo ciclo di Binance Coin andiamo a vedere l'altra forte poi passiamo alle due colpite veramente tantissimo che già vi dico in maniera spoilerata che i dati sono negativissimi sia su Solana che su Crypto.com in tempo in intendo in termini di natura ciclica allora qui su Matic abbiamo una struttura estremamente più complessa dei cicli annuali rispetto a quella di BNB tanto perché Matic è più giovane e quindi abbiamo meno dati e quindi la struttura ciclica è estremamente complicata da andare a disegnare ragazzi perché non abbiamo dati sufficienti per questa criptovaluta e quindi dobbiamo andare un po' attentoni o a improvvisare teoricamente perché abbiamo in pratica due cicli di natura annuale vedete questo più o meno simile ai vecchi cicli di Bitcoin 490 un po' lunghetto ci può stare visto la Superburnan questo invece è cortissimo in pratica allora questo ciclo se è così confermato è troppo corto rispetto ai precedenti quindi teoricamente sancisce che questi sono due annuali probabilmente inseriti in una struttura ternaria questa è un'anomalia tecnica ma è giusto per farvi capire che probabilmente la struttura di Matic potrebbe seguire questo andamento qui cioè fare tre cicli annuali cortissimi che poi si configurano più o meno in questo andamento ora l'ultimo l'ho fatto un po' più più corto quindi dovrebbe essere un po' più lungo ma è giusto per semplificare allora cosa significa significa che anche questa cripto che è stata veramente molto forte in una fase centrale come questa qui vedete ha raggiunto un massimo che se effettivamente rispetta la sua struttura ciclica sembrerebbe proprio dover attendere questa chiusura qui del ciclo cioè in pratica Matic secondo me è un po' peggio in questo momento di BNB come forza quindi nonostante siano le cripto più forti l'analisi ciclica ci dice che stiamo andando dopo questo presunto diciamo possibile rally di Natale che sarebbe un nuovo semplicemente un nuovo mensile che dovrebbe fare un qualche settimana rialzo potremmo andare poi in una fase appunto così ragazzi e poi di chiusura tecnica che proprio sarebbe questa quindi in realtà se proprio dovessimo dirla tutta Matic a un eventuale pump di Natale andrebbe shortata a un'inversione di trend perché la sua natura di ciclica ci potrebbe indicare che andiamo verso un ciclo in chiusura attenzione perché il ciclo attuale non vuol dire crash della criptovaluta che a differenza delle altre non è crashata perché è fortissima attenzione a questo ragazzi vuol dire solo una fase negativa una fase negativa che potrebbe appunto essere come questa che vi sto disegnando cioè a dare a chiudersi proprio su questi prezzi quindi non ha nulla a che vedere una cosa del genere con chi magari vuole fare hold di lunghissimo periodo perché non ha niente a che vedere appunto un'operazione del genere cioè un'eventuale pump e poi una chiusura ciclica di questo tipo è semplicemente un'oscillazione come questa che avete visto qui e qui quindi tutto qua tutto diciamo si gioca da questo punto di vista dove cambia effettivamente la struttura di Matic sotto lo 0.065 cioè sotto questo livello incomincia a piegarsi la struttura anche di questa criptovaluta e la questione si mette male perché un'eventuale ciclo anche di questo tipo potrebbe eventualmente poi iniziare un rimbalzino qua per l'ultima struttura ciclica vedete 1 2 3 se fa una cosa del genere e questo rimbalzino potrebbe avere le gambe corte e attenzione con eventuale break poi del suo minimo poi porterebbe a una fase nel 2023 inoltrato di ribasso vero va bene allora questo andrà visto continua ad essere una delle mie cripto preferite lo sapete ve lo dico da un anno e continua ad essere così al momento non c'è un segnale di short vi faccio vedere anche le medie vedete come le due medie sono belle aggressive queste sono 50 e 200 quelle classiche che usano gli istituzionali siamo sopra la media a 200 periodi quindi la cripto è teoricamente in trend rialzista questo si vede quindi non andate a fare short contro trend però questa è la sua struttura naturale e la sua struttura ciclica quindi tenetela in considerazione queste fasi a livello naturale sono verso marzo 2023 e questa è ottobre novembre 2023 quindi queste sono le due fasi da tenere monitorate andiamo a vedere le più complesse iniziamo da cripto.com CRO è caduta pesantemente nei giorni scorsi a causa dell'ennesimo tweet di Binance che indicava bla 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 hanno fatto un'operazione strana uscite là eccetera per fortuna l'exchange di cripto.com sembra aver retto molto di più di quello che si pensava e questo è un grande risultato perché vuol dire che comunque i fondi c'erano quindi la corsa al withdraw è stata retta con tranquillità da Chris Chris è intervenuto ha fatto le ame quindi un po' forse la gestione aziendale diremo di cripto.com ha retto questa fase quello che non ha retto è il token ragazzi perché già comunque CRO veniva da pesanti fasi di ribasso e una fase di estremamente complicata perché è venuto meno un po' il servizio della carta che si funziona però è stata superata sicuramente da quella di Binance e quindi un po' diciamo ha perso quell'appile che aveva inizialmente anche la stessa chain di Kronos si è una chain funzionante ma comunque strasuperata da altre chain come per esempio quella di BNB o la stessa Solana che funziona mi chiamava un po' meglio però vabbè e quindi non è avuto diciamo forse a livello commerciale l'esito che ci aspettava proprio da CRO se non che se andiamo a fare un'analisi di natura ciclica anche sulla token di Crypto.com intanto si vede in maniera abbastanza evidente che la struttura di analisi tecnica indica che il trend di Crypto.com in questo caso è virato al ribasso in termini di quasi lungo periodo resta questo ultimo baluardo al di sotto di 0.05 in pratica è un trend ribassista di lungo periodo questo significa che ci dovranno lavorare tanto per far invertire un trend che comunque è stato una super crash catastrofico ragazzi perché al di là della situazione di FTX che era qui aveva comunque già perso il 90% dai massimi e qui siamo al 95% è un classico un po' per le cripto nulla vieta questa criptovaluta di riprendersi a motore perché è fortemente pilotata anche dalle decisioni strategiche di Crypto.com quindi non è che non è possibile ma da un punto di vista di analisi sul grafico ragazzi noi dobbiamo analizzare quello che sono i dati quindi i dati indicano in questo momento trend assolutamente al ribasso e soprattutto anche un annuale bruttissimo perché questo annuale di Crypto.com è stato probabilmente chiuso qui anche lui a giugno oppure ha una struttura ciclica ternaria come quello di Matic ma in ogni caso nell'uno o nell'altro vi faccio vedere anche per esempio la struttura se vogliamo vederla da un punto di vista di analisi sul settimanale che è un po' più chiaro senza le shadow quindi solo con le linee di chiusura in questo caso si vede ancora di più che l'annuale precedente era stato chiuso a maggio e non a giugno e teoricamente vedete qui questo tentativo di ripresa era il nuovo annuale se così insomma la prendiamo in considerazione che è già virato al ribasso se quest'annuale ragazzi è ribassista non se ne esce in pratica questa deve continuare a scendere o a lateralizzare in maniera ribassista fino alla fine del suo naturale ciclo annuale che porterebbe la chiusura proprio verso più o meno l'estate del 2023 attenzione a non confondere nuovamente la fase negativa con il prezzo negativo ragazzi perché ok che scende però potrebbe tranquillamente andare a fare una roba del genere vedete e poi andare ad appoggiarsi magari sul prezzo che precedentemente aveva già toccato che è esattamente 0.055 quindi questo è un'analisi che ci dice che le probabilità ovviamente sempre probabilità di una ripresa a V sono un po' basse per via della situazione tecnica del grafico dell'analisi ciclica del grafico quindi solo se Bitcoin ha chiuso un'annuale ora e riparte a bomba ragazzi succede una cosa del genere se la probabilità che Bitcoin abbia un'annuale ribassista viene confermata nelle prossime settimane non c'è storia probabilmente neanche su queste criptovalute a meno di bump organizzati un po' insomma a tavolino ecco diciamo così c'è poi anche per gli avanti dell'analisi tecnica su questa criptovaluta un super e gigantesco testa a spalle terrificante oserei dire perché va a unire vedete le due spalla sinistra spalla destra mini spalla destra e io non amo questa figura già vi dico che secondo me non verrà confermata in termini di proiezione però una figura del genere porta teoricamente ad un target price bassissimo come vedete di 0,016 quindi dovesse verificarsi una struttura di classica di testa a spalle confermata con target ribassista la vedo è poco probabile sono sincero questa criptovaluta sarebbe un disastro cioè praticamente scenderebbe perdendo tantissimo del suo valore non mi piacciono questo tipo di figurazioni chi mi conosce sa bene la questione in pratica sarebbe dagli attuali livelli di prezzo un meno 80% dagli attuali livelli ma non mi piacciono testa a spalle si verificano per mercati diciamo raramente si vanno a confermare quindi sono un pattern che non ha una grande attendibilità questo significa però ve l'ho fatto vedere perché alcuni me l'hanno indicato dice c'è il testa a spalle gigantesco è questa cosa qui insomma sì sicuramente è bruttina io quello che valuto di più come sapete l'analisi tecnica è l'analisi dei prezzi e dei cicli questa analisi qui ci dice che probabilmente qui è stato chiuso un nuovo ciclo ma anche se fosse un ternario come quello di Matic che vi ho fatto vedere prima saremmo in una situazione del genere e insomma ovviamente qui l'ho fatto un po' profondo però in sostanza non c'è storia anche lì non è messa bene la cripto di cripto.com secondo me a meno di al di là di pump di rally di natale di qualche settimana un mesetto per i nuovi mensili nuovi semestrali che potrebbero iniziale non ci vedo grande possibilità anzi probabilmente queste criptovalute potrebbero essere occasioni di short selling qualora si verificassero appunto questi pump andiamo a vedere l'ultima la più toccata quella da vicino proprio in termini di prezzo dal crash di FTX ed eccoci qua allora intanto mettiamo il grafico daily normale vi spoilerò già che la questione di Solana nonostante fosse una criptovaluta estremamente positiva proprio fino al giorno prima della questione del crash di FTX dopo il crash tutta la sua struttura ciclica è praticamente diventata un disastro e questo è inattaccabile ineccepibile va assolutamente considerato anche qui abbiamo sicuramente un ciclo annuale iniziato in questa zona di luglio maggio sembrava un ciclo di natura anche qui vedete è identica la questione ragazzi se andiamo a mettere per esempio la linea sul daily vediamo che il ciclo annuale è iniziato a luglio se io vi sposto il grafico su weekly vedete che è iniziato a maggio guardate che discrepanza è questo proprio stato il disastro ciclico che non ci ha dato delle indicazioni pulite su queste criptovalute se anche fosse una questione del genere in pratica qui avremmo chiuso un annuale cortissimo a 328 giorni che poi indicherebbero che questa criptovaluta segue quello che ha fatto Matic quindi segue quello che abbiamo detto su Matic quindi con un'enorme probabilità di vedere la chiusura di tutta questa fase alla fine del prossimo anno a ottobre del 2023 con tre cicli di natura annuale corta in questo modo allora se fa una roba del genere capite bene che la struttura centrale è già virata a ribassa a causa del crash del di FTX quindi questa criptovaluta ragazzi in pratica ha un disegno che teoricamente seguirebbe questa fase bruttissimo la struttura annuale può essere annullata la struttura ciclica annuale può essere annullata dalla fatto che questa criptovaluta ha avuto un evento esogeno no perché la questione dei cicli annuali ragazzi è proprio legata agli eventi che colpiscono gli asset cioè le strutture cicliche degli asset sono una reazione cioè hanno una duplice sono in come si dice in non mi viene interpolati ragazzi quindi hanno sono a doppio filo con gli eventi cioè gli eventi sono influenzati dai cicli o i cicli imponenti e la gallina con l'uovo no in sostanza sono insimbiosi cioè ragazzi i cicli di un asset e i cicli economici la stessa identica cosa sono dipendenti dagli eventi e gli eventi vengono presi in un certo modo dai mercati in base alle fasi cicliche cioè per esempio un evento può essere preso bene o male quindi l'evento attuale di FTX ha modificato il ciclo di Solana probabilmente rendendolo negativo ma comunque il ciclo di Solana stesso non era questo qui positivo ragazzi perché la crypto in questione doveva andare a reagire era se vi ricordate nel mio ultimo video ve l'avevo fatta vedere la una debole che però aveva un gran progetto tutto quanto quello che c'era da dire però era debole io ve l'avevo detto in quel video lì e quindi se da questa zona non fosse andata a breccare questo livello di barra in sostanza anche la sua attuale fase ciclica non poteva far nulla cioè questa era un azzardo che avevamo indicato per esempio in quel video andato velo a rivedere ovviamente non l'ha fatto quindi non c'è stato nessun tipo di ingresso andando a breccare invece il livello basso della barra ha inevitabilmente invertito il trend di lungo periodo in questo caso e il trend di lungo periodo di Solana quindi da che era un trend di correzione con questo break è diventato un'inversione di ribassista di medio-lungo periodo ovviamente il trend è ancora fortemente positivo dai minimi del 2020 è chiaro ragazzi però è impensabile andare a guardare una criptovaluta di questo tipo e non comprendere che il trend questo qui non esiste più per questa cripto perché intanto siamo sul logaritmo quindi se vi tolgo il logaritmo vedete che tipo di grafico si va a disegnare è giusto per intenderci quindi se io poi la vado a considerare in versione logaritmica devo andare non a considerare una trend line ma una curva nel momento in cui però noi andiamo a fare questa scusate che altrimenti lì mi viene un macello nel momento in cui andiamo a fare quella curva il trend vedete che viene disegnato così anche se fosse è comunque stato invertito adesso io faccio pena a disegnare con il mouse però giusto per farvi capire insomma non è preciso ma è stato invertito quindi tecnicamente quali sono i livelli che Sonana potrebbe raggiungere se questa view di struttura ciclica viene purtroppo confermata teoricamente la sua naturale suo naturale arrivo dovrebbe essere questa zona di pricing qui 5 dollari perché questa zona di pricing che dista tantissimo dagli attuali prezzi e quindi va tenuta in considerazione un meno 60 e ragazzi sarebbe la sua naturale punto di arrivo dopo il crash che aveva avuto qui quindi qui c'era stato un superbercato che aveva indicato questo pump anche per questioni di natura tecnica naturale potrebbe tranquillamente arrivare a quei livelli ci sono anche dei livelli intermedi che sono qui e ragazzi bisognerà andare a comprendere questo evento ve la dice lunga anche la questione che nonostante i validatori siano tornati a dove erano prima sembrerebbe che si stiano rimettendo tutti i validatori di Solana non è cambiato il trend della criptovaluta che non ha avuto neanche un minimo rimbalzo decente dopo il crash a differenza per esempio di altre che hanno rimbalzato molto meglio per esempio Matic questa la dice lunga proprio sulla questione attuale quindi secondo me Solana da tenere nel cassetto come watchlist da sorvegliare io farei così quindi la direi come sorvegliata speciale perché magari alla fine di questa super fase ribassista dei mercati delle cripto che sembrerebbe dover continuare anche nei prossimi mesi potrebbe essere un'occasione a quel punto veramente perché magari se il progetto resta in piede a una super bear market di questa entità perché no potremmo potremmo poi valutarla per gli anni a venire lo so non sono belle notizie magari per chi di voi ama questi progetti ma grafici oggettività e c'è poco da dire alla fine l'analisi ciclica può essere un po' soggettiva ragazzi ma il trend statistico quindi massime e minimi decrescenti no quello è un dato oggettivo trend ribassisti per queste due criptovalute meglio un po' Matic e BNB che invece hanno ancora trend al rialzo quale vi piace tra queste e secondo voi dove andranno nei prossimi mesi come sempre nei commenti e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ragazzi